Il Pordenone Si forma dopo il contatto con la maniera romana di Raffaello e Michelangelo, ma anche sotto l'influsso di Giorgione e di Mantegna, dal quale apprende un certo vistuosismo di narrazione e di prospettiva. La sua arte si afferma nel 1508 con uno straordinario ciclo di affreschi per la chiesa di San Lorenzo a Baciglie, nel quale si rivela l'equilibrio e la potenza artistica delle figure degli apostoli, santi e dottori della chiesa. Dopo un breve soggiorno a Roma realizza nel 1514 delle sontuose decorazioni per l'abside della chiesa di Sant'Uldereco a Villanova. Le espressioni dei soggetti, infatti, sono cariche di pathos, mentre le scene corali hanno un'espressione monumentale del tutto inconsueta. Dopo aver integrato le novità della pittura romana, il Pordenone basa la sua arte su un connubio tra lo stile narrativo, tipicamente romano, e la sua vena schiettamente popolare, nell'anatomie dei corpi e nel sapiente uso del colore, specializzandosi così nelle grandi scenografie. Tale connubio e la propensione ai grandi soggetti lo portano a specializzarsi nell'affrescatura, tecnica che gli garantisce un discreto successo nella provincia veneta e lombarda, dove si occupa della decorazione del Duomo di Treviso, con l'adorazione dei magi tra il 1519 e il 1524. Tuttavia, la carriera del Pordenone soffrì molto la sua sintesi stilistica, tanto che l'artista non riuscì a farsi apprezzare dai più importanti centri culturali ed artistici. Nel 1528, infatti, perde la gara per la pala per San Pietro Martire, che vede invece l'ascesa del giovane pittore veneziano Tiziano Vecellio. Nel 1532 viene incaricato da Idoria di decorare la facciata di Parazzo Fasolo, nella storica Genova. Il maestro realizza un maestoso ciclo di affreschi dedicato alle storie di Gesone, andato o perduto in epoca barocca. Tuttavia, la pala di Santo Stefano Giustiniani e Santi si è conservata perfettamente. Essa mostra le tipiche figure allungate dello stile del Pordenone e presenta una narrazione discorsiva molto vivace, creata tramite l'uso dei colori. In seguito alla realizzazione del cune affreschi per il Duomo di Cividale e una splendida tomachia per la facciata di Palazzo Tinghi a Udine, l'artista scompare dalla scena artistica trovando la morte nel 1539. Grazie per la visione!